chi sei? Aspetta, andiamo da vicino Aspetta, vorrei dire, aspetta io ci vorrei sentire la caccia è messa un po' no, è il canale se io arrivo a montagna non lo so non lo so non lo so non lo so Vecchio, facci legarlo Vecchio, metteci in bello ma non c'è a fare cascata non fai niente Vecchio, non fai niente Vecchio, metteci in bello vediamo se ne vuoi chiudere un po' ma avvicina maggiormente la cosa, no? L'inizio è è lenta non è che Vincia cosa la cosa vuoi fare anzi, io l'ho paraguante ci sono per citare, scendere che cascate scendere No vanno Sì, mi dico, ah, ok, mi dico, allora per l'appuntamento, per l'appuntamento, mi dico un po' lei a che ora può passare, io sono flobono, flobono sono, io già sono, a che ora potete vedere la domanda, vediamo se posso fare. Grazie.